Io mi chiamo Francesco Buongiorni, sono stato chiamato da Honda per creare un'opera che rappresentasse lo spirito della nuova moto EXIDV. EXIDV si propone di fondere lo spirito della città con quello dell'avventura e della natura incontaminata. Quindi la mia idea era quella di creare un oggetto che fondesse questi due mondi. Ho raccolto in un panorama a 360 gradi lo spirito di queste due realtà. Quindi gli alberi si trasformano in case, le montagne si trasformano nello skyline della città e quindi una sorta di sublimazione di un unico mondo diviso in due. Mi sono ritrovato molto nello spirito di EXIDV, quello di vivere in città e cercare di scappare il fine settimana. Quindi è stato un lavoro che personalmente mi ha colpito molto e mi ci sono ritrovato profondamente. Grazie. 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 Grazie.